buona sera a tutti sono luigio naracus e profite e bento suonato combattol versione japp con l'analisi dell'esa dell'ultimo membro della geniu forse almeno per qualche anno perché sì ci sarà anche l'esa di geniu agl ma penso sarà tra tanto tanto tempo unico pg che una volta era il perno della squadra poi cogliesa vari eventuali dentro quello non giocate più e ora torna in bellezza a farci godere ovvero la geniu forse con geniu goku che ragazzi tanta bella roba io sto provando a portarvi lo showcase di geniu forse ma bisogna avere tutto quanto da ability art per battere broli quindi non so vi porterò probabilmente in una road comunque la geniu forse bella cazzuta tutto per voi go global e così sapete se avete pulato geniu quanta bellezza avete geniu vi ricordo però essere il miglior do can festival uscito quest'anno non lr per quanto si può dire i blu exchange boy quindi goku blu che diventa vegetaboo son forti ma per via del team geniu proprio brutto di suo comunque affrontiamo il pg statistiche sempre uguali abbiamo geniu forse 4 chi e 130 per cento stats abbastanza classico passiva vi ricordo che nella forma base era un buffer un buffer 50 per cento alla geniu forse praticamente e lui quindi aveva un 50 per cento di stats buff ora abbiamo attacco e difesa 59 per cento e tre chi a inizio turno 10 per attacco e difesa fino al 50 per cento per geniu forse categoria alli più il 59 per cento di body buff 30 per cento attacco e difesa i extreme e 29 per cento la geniu forse che lo portano ad avere un bel 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 valore abbiamo 59 più alto 59 cento diciotto più di 178 per cento di difesa e attacco tra l'altro abbiamo aumento attacco e difesa al lancio della 12 chi è un grande aumento tra cui difesa al lancio della 18 con ulteriore 30 per cento di buff a tutti gli extreme è un pc che dovrebbe giocare in posizione 1 ma è in posizione 2 almeno in generale è probabile che lo in realtà lo metterete a ruotare nonostante arrivi a ottimi danni in modo di avere sempre un buffer attivo tra l'altro al suo interno c'è anche gis quindi funziona abbastanza bene link skill g new forse il tuo post gentile per spero io ti modemi dei leggendari power il pg di per sé completissimo del suo giochi in un team solo g forse che g forse poi possa essere giocato come plane max saga dragon ball seeker tre file conqueror special poise e spesa in warriors è un altro paio di maniche però di suo gioca solo in g new force giro forse ragazzi che oggi è uno dei migliori team del gioco in una top tier dei team e nel god tier g forse perché non c'è un evento che non fa e anche uno dei team con più alta percentuale tutto full ability naturalmente a differenza di altro di riuscire a fare il non adorato broli della red zone tutto questo in realtà non c'ho molto altro da dire farmatelo se non l'avete preparato da suesa promosso a pienissimi voti noi ci vediamo al prossimo video e buona serata giusto prima che me ne dimentico non tanca in red zone benissimo perché mi dimentico sempre che ho aggiunto red zone quindi ne devo un attimo parlare in red zone comunque ha bisogno di giocare terzo però vi ha ragioni però il 52 per cento acqua difesa a g new a gl capitano alla prossima ciao